E' l'Italia delle piccole imprese. Non spegnete questa luce. Domenica 27 il salotto di Vicenza, Piazza dei Signori, tornerà ad accogliere una nutrita rappresentanza di operatori. Che, forti della loro grande creatività e di mani sapienti, sono straordinari protagonisti del nostro artigianato artistico. Questo nell'ambito di una nuova edizione di Fora Bottega, iniziativa realizzata con il patrocinio del Comune di Vicenza e il contributo della Camera di Commercio da Confartigianato assieme a V-Art, che da anni, attraverso esposizioni, temporary store, attività formative rivolte a estimatori e obisti e la partecipazione a manifestazioni in città italiane di grande tradizione artigiana, promuove mestieri che mantengono nel tempo inalterato il loro fascino. La curiosità dei visitatori sarà ancora una volta pagata dalle dimostrazioni dal vivo offerte dagli artigiani che lavoreranno sul posto fornendo un saggio del processo creativo. Lavorazione del ferro e della pietra, tornitura del legno, tappezzeria, ceramica e porcellana, pelletteria, restauro di mobili, di opere d'arte, di libri antichi, produzione e riparazione di strumenti musicali, gioielleria, sartoria e ricamo. Davvero tanti, ancora una volta, gli ingredienti di Fora Bottega. Ricordate, domenica 27 a Vicenza in Piazza dei Signori.